Buongiorno, sono Pietro Lavalli, sono un medico iurubodentista. Avevo delle esigenze molto specifiche, cioè avevo il bisogno di fare un progetto, chiamiamolo di marketing, per il mio studio e per la mia attività e per la mia persona. Ho incontrato Francesca Caputo di imprenditori che cambiano e ho veramente avuto chiarezza disposizione, ho avuto per me un progetto che mi sta cambiando completamente la visione della mia professione e del mio lavoro. Loro hanno veramente risolto i miei problemi e mi hanno dato la strada per poterli ulteriormente risolvere, quindi sono molto soddisfatto dell'incontro, gli incontri, perché sono stati diversi incontri, abbiamo lavorato per diverse ore e loro hanno lavorato sul mio brand per fare facendomi capire cosa io sono, anche se in parte già lo sapevo, e tagliando esattorialmente con un vestito per me, per la mia professione, per il mio staff. Quindi sono molto soddisfatto.